Prende il via una nuova edizione di Digiton, quattro giorni non stop con una full immersion nel mondo del digitale. 48 ore di competition tra le start-up, confronto con le aziende, formazione, grandi eventi e momenti di approfondimento con nomi di primo piano del mondo delle istituzioni e delle imprese. L'edizione numero 7, che riprende dal vivo dal 7 al 10 luglio, segna una nuova ripartenza dopo due anni di maratona esclusivamente in live streaming con il ritorno alle vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Fino al 10 giugno è aperta la Call for Ideas per gli inventors per intercettare nuovi progetti da mettere in contatto con investitori privati e istituzionali italiani e internazionali nel corso della maratona. Qui mettiamo insieme capitale umano, giovani ricercatori, start-up per il mondo delle imprese che traggono vantaggio da questa vicinanza. Quindi ci saranno tantissime idee progettuali che saranno presentate a un parterre di eccezionali aziende e di amministratori delegati che vengono da tutta Italia. Siamo entrati in una fase, la società digitale, in cui bisogna iniziare a pensare che le reti siano importanti come ogni bene comune. Non si può pensare che ci siano aree del territorio senza rete e poi decide ogni singolo se connettersi o meno, ma la connessione deve essere garantita a tutti. Ovviamente dentro questa cornice quest'anno il focus sulla sanità, dopo i due anni di pandemia e sulla sicurezza e sulla cyber security. Gli attacchi di queste ore di alcuni hacker russi hanno fatto scattare l'allerta massima per le nostre agenzie di sicurezza, che ci proteggono e ci proteggono bene. Però è evidente che anche i giovani start-up, i nostri sviluppatori, lavorano ogni giorno su questi temi.